Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. Il traffico risulta al momento regolare sull'intera rete stradale autostradale toscana e sulla FIPI-Li. Sul raccordo Siena Firenze chiusi in entrata in direzione Firenze gli svincoli di Badesse e Poggi Bonsi Sud. Queste le strade di Firenze interessate da lavori la prossima settimana. Via Benedetto Marcello, Via del Frullino, Via della Mattonaia, Via della Treccia, Via di Montughi, Via Stibert, Via Maffia, Via della Pergola e Via Romana. Per il traffico ferroviario permane sospesa la circolazione sulla Faentina tra Marradi e Faenza, previsti bus sostitutivi. A Firenze prorogate fino al 31 dicembre le vetrofanie per la sosta sulle strisce blu nella ZCS, prevista una riorganizzazione del servizio. Altre info sul nostro profilo X. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!